Salve a tutti sono ZombieVest e sono qui in questo video per chiedere a voi iscritti quale di queste due intro preferite sono stato molto indeciso a scegliere l'intro che avete fatto in quanto sono state tutte veramente molto interessanti e molto belle ma in particolare queste due mi stanno creando molti problemi di scelta non so se tenere la prima che vedete qui col fuoco oppure la seconda magari con qualche modifica pensavo soprattutto all'audio in sottofondo la seconda forse si adatta di più per il tipo di video che faccio e forse è un po' più diversa in quanto la prima è presa sicuramente da un template già fatto e potrebbe essere ripetitiva invece la seconda a mio parere anche ha una bella dissolvenza finale in cui potrei iniziare un video molto bene ma non so quale scegliere sono molto indeciso quindi lo chiedo a voi votate nei commenti qua sotto se preferite la prima quella del fuoco o la seconda quella degli zombie quindi niente vi ringrazio tutti per questo piccolo aiuto per tutte le intro che avete fatto veramente grazie a tutti anche perché stiamo raggiungendo i 4000 iscritti e quindi bisogna che io abbia un intro e magari anche delle miniature video inizierò a farle in questi giorni ad aggiungerle a tutti i video che ho quindi vi ringrazio tutti e votate e commentate con l'intro che preferite da Zombivest è tutto ciao ciao